Questo è un mestiere artigiano, però ha limiti dell'arte nel senso che c'è una creazione che fate voi oggi. Allora, ho dovuto fare un neonato, però non so, più o meno nove mesi, in Francia, era in Francia da poco tempo e questo per me è molto difficile. Lavoriamo con la luce bianca, che è una luce che va bene per lavorare perché si vede tutti i difetti. Grazie a tutti.